A questo punto sognare non costa nulla, il Bologna è la squadra del momento, bellezza ma soprattutto idee. Quinta in classifica, meno tre dal quarto posto del Napoli con una banda di giovani che piace e fa divertire con un comandante capace di alzare sempre più il livello. Chi proverà a rallentare questo sogno è il Lecce che raccoglie meno di quanto produce che in casa ha già fatto soffrire un paio di big buongiorno e buona domenica da Riccardo Mancini e Emanuele Pasquale. Benvenuti al Via del Mare, il giorno di Lecce-Bologna. Grazie a tutti.